aspettiamo domenica 9 ottobre a carignano per la sagra del ciapinabò insieme con me ci saranno esperti chef gastronomi scopriremo che ciapinabò non è solo bagnacauda ma ci sono tantissimi modi per gustare questo bellissimo tubero per me è davvero speciale il ciapinabò perché è dolce allo tempo stesso è molto croccante ha un sapore delicato vi aspettiamo così per scoprire tutte le preligatezze che ci nascondono dietro questo fantastico tubero